Buongiorno, dovevi sapere che c'è un problema qua, è ovvero quello che trema tutto ogni volta che passano gli autobus O comunque dei mezzi molto pesanti, sulla strada qui sotto, ci deve essere una condizione Che porti dai 5 ai 10 cazzo di terremoti al giorno Volevo appunto farvi vedere anche, magari sentire, perché poi trema tutto, sbattono le porte E io ho paura che in futuro ci potrebbe rollare tutto in... TAPACCHI! E non vogliamo, vogliamo evitare, soprattutto se poi dovessimo avere... Ma cambiamo discorso Andiamo a vedere come stanno i nostri amici Basilico, come stai? Bene Miranzani, come state? Bene Pomodorini, come state? Non male Decidiamo di andare al Dice, una catena di negozi con roba da 100 yen E trovo cose molto interessanti Yuri, io sono tuo marito La capitale situazione? No, no Vendo pure da mangiare Mangiare? Beh Snacks Vendo anche vecchietti Avremmo potuto piantare questo, invece di altri Se avrete problemi con i vampiri, ecco la soluzione Decidiamo così di pranzare nella pizzeria di un orso di nome Aira Senza altissime aspettative Che è poi la chiave per sorprendersi ogni giorno Boh, questa qua, sta pillola ve la regalo io Così gratis Pa, yeh Pa, 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 pa Mi pensa da così vicino, sembra anche abbastanza grande Però, ok Molto penne direi Che è tutto piccolo ragazzi, piccolo Però era buono Come questa Margherita Torniamo a casa e mi metto a pulire gli interni della nostra nuova auto Torno sopra e trovo una sorpresa spaparanzata nel mio, ma ahimè, ormai credo suo, divano E decidiamo di saltare la cena Lo facciamo per l'ambiente Sono Greta Greta chi? I want to save the earth Greta Thunberg? Yes I want to save the earth Come lo salvi il mondo? Questo è il mondo Questo bello il mondo Ma come lo salvi il mondo? Come? How do you do that? Greta, how? It's my question Ok people Where are you Indian? Ok people We have to save the world people Sono ancora le 9 e poi siamo veramente andati E poi Boi It's all up to us We can change this world Chi sei? Greta Sono Greta 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 bond E prima di andare a letto però Yuri prepara una doccia al cioccolato che però non mi fa assaggiare Peccato Ciao Ciao Sono Peppe dal futuro E volevo dirvi che la torta al cioccolato era molto buona Adesso sono rinchiuso in bagno perché se no Quindi molto buona veramente Eccezionate